Mi chiamo Greta, ho 25 anni, vengo da Prato e mi sono trasferita a Milano alla fine del 2019. Sono una creativa e lavoro con i social e come fotografa e mi sono trasferita in questa città insieme alla mia collega e compagnia di corso, Sara, per mandare avanti il nostro progetto Molieris che è nato all'università e ha trovato una base concreta nella città che è Milano. Abbiamo trovato delle community, delle persone che ci sostenevano e il nostro progetto si è diffuso in questo modo poiché è un progetto che vuole dare spazio a creative donne in tutti i settori artistici e oltre a dare una libertà creativa e artistica vuole dare anche delle opportunità di lavoro e Milano per noi è stata una speranza sia a livello personale, individuale che come collettivo, di poter vedere questa community agire fisicamente e quello che mi aspetta una città come Milano è quello che mi aspettavo anche quando mi sono trasferita, ovvero delle opportunità diverse, delle opportunità che non ci sono ovunque, l'apertura a spazi diversi, a un tipo di supporto che non posso trovare magari in altre città e la varietà, la multiculturalità l'intersezionalità, qualsiasi tipo di cosa che possa aprire le nostre vedute e aprire quindi anche le nostre speranze.